buongiorno a tutti oggi siamo in centro a bellinzona per mostrarvi questo monolocale dato importante per poter accedere a questo piano ci troviamo al terzo piano di questa palazzina all'interno dell'ascensore è necessaria una chiave dedicata entrando nell'appartamento veniamo subito accolti da questo ambiente e immediatamente a sinistra troviamo il bagno composto di lavabo specchiera doccia e vc uscendo dal bagno veniamo subito immersi dall'open space come potete notare subito a sinistra la cucina composta di lavabo lavastoviglie a incasso forno e piano cottura in vetro ceramica l'ambiente come potete notare rimane molto luminoso grazie a queste ampie vetrate e grazie a questa porta finestra possiamo accedere al balcone se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 0041 91 921 24 28 ti affitto